Giorni di attesa per Giuseppe Cattani e tutti i sostenitori della NPC che dovranno attendere fino al 18 luglio per conoscere l'esito della domanda di ripescaggio in Lega 2 Silver da parte del Consiglio federale. Promessa mantenuta sostiene il patron Cattani all'indomani della richiesta di ammissione. Essenziale il ruolo giocato dal Presidente di Risorse Sabine Giovanni Mascioletti che ha permesso l'utilizzo del Palazzo Giurner. Condizione essenziale perché per la missione in Silver occorrono mille posti a sedere quindi è l'unico impianto della provincia disponibile. L'abbiamo fatto poi facendoci una promessa di confrontarci in un tavolo di concertazione per stabilire le regole che ci permetteranno l'utilizzo per la prossima stagione. Quando si trovi un accordo perché la vedo un po' difficile in questo momento però siamo fiduciosi. Abbiamo trasformato con i nostri commercialisti la società da ASD in SRL e altro condizione essenziale per poter essere ammessi e adesso aspettiamo. Dovremmo instaurare un colloquio molto stretto con le istituzioni, prosegue Cattani. La NPC può fare fino ad un certo punto da sola. Più si sale la scala e più servono sostegni. Un terzo lo mettiamo noi come NPC, un terzo sono fiducioso, lo metteranno i tifosi e ci seguiranno volentieri in questa nuova avventura. L'ulteriore terzo che manca insieme al Palazzo Giurale dovranno darmi una mano le istituzioni. Se no purtroppo il 18 di luglio se dovesse arrivare questa sperata ammissione a Lega Superiore saremo costretti a rinunciare. È bene che si sappia perché poi è meglio fare allarme adesso e poi ritrovarsi con una grandissima versione dopo. Lavoriamo tutti insieme, lavoriamo di concerto e speriamo che tutti remino dalla stessa parte.